Cosa sono i centri di servizio al volontariato o CSU? I centri di servizio per il volontariato sono delle strutture presenti su tutto il territorio nazionale, nascono nel 1991 dalla legge sul volontariato e vengono confermati nel 2016 dalla riforma del terzo settore e sono delle strutture che hanno il compito di promuovere, organizzare e supportare il volontariato italiano. Qual è la vostra mission principale? La nostra mission principale è quella di qualificare e promuovere il volontariato dentro i contesti di promozione della solidarietà e del bene comune e della partecipazione attiva dei cittadini. In particolare per le organizzazioni cosa fate? Per tutti i clienti del terzo settore, il volontariato organizzato, noi offriamo servizi per creare o costruire, realizzare una propria associazione, saperla gestire, organizzarla e li aiutiamo a mettere anche in campo le loro attività, le loro iniziative, i progetti nella maniera più qualificata e corretta possibile. E per il singolo cittadino? Per i singoli cittadini proviamo esperienze di volontariato, facciamo conoscere le associazioni di volontariato del territorio, le attività o le iniziative che le associazioni fanno e promuoviamo la partecipazione attiva dei cittadini dentro esperienze, sia in campo nazionale che in campo internazionale. E in generale sul territorio? Sul territorio noi costruiamo, lavoriamo per costruire reti tra associazioni, stimoliamo la collaborazione tra associazioni di volontariato, enti istituzionali, pubblici o del mondo privato, per costruire progetti che abbiano una ricavuta sulla collettività nello svolgimento dell'interesse generale del mondo. Come faccio a richiedere un servizio? Per richiedere il nostro servizio è facilissimo, basta digitare sul portale di internet, CSV, Lecco, CSV Monza, CSV Sondro, e con tutti i nostri contatti si può o contattarci telefonicamente o attraverso una mail, o se si hanno già i telefoni mobili degli operatori si può semplicemente contattarli e vi verrà la proposta risposta. E quali sono le vostre sedi che avete sul territorio? Noi operiamo su tutte e tre le province, come di Monza, di Lecco e di Sondrio, abbiamo tre sedi fisse a Monza, a Lecco e a Sondrio, e poi giriamo comunque laddove l'associazione non bisogna incontrarci, li incontriamo anche nelle loro sedi o nelle sedi comunali dove servono. E come ultima domanda, quali sono i vostri contatti? I nostri contatti li trovate tranquillamente sul nostro portale e csdlombardia.it oppure scrivere alla mail dell'elenco che ho c'è la csdlombardia.it